Musica Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di Juventus del futuro prossimo e del futuro immediato perché dobbiamo attaccarci a una delle poche cose che ci rimangono di positive da Juventus Inter e cioè l'atteggiamento e la voglia di Massimiliano Allegri di mettere in campo i migliori 11 a disposizione un po' come aveva fatto nell'annata che ci ha portato a Cardiff, in cui Juventus Lazio in cui va a schierare tutti i giocatori offensivi davanti 4-2-3-1 e lui stesso anni dopo dirà a Aria la formazione si è trovata da sola, tutti i giocatori sono nella migliore condizione possibile e da qui voglio ripartire perché in questo momento siamo in una condizione di classifica, signori in cui è difficile sognare una rimonta a Scudetto sono troppi punti in soli 7 partite con 3 avversari davanti, quindi insomma un po' complicata delle due stiamo attenti dietro e allora per stare attenti dietro possiamo unire i risultati, quindi le vittorie a qualche esperimento di squadra diversa da quella che abbiamo visto a larghi tratti in questa stagione e che per tante volte magari ci ha fatto pure arrabbiare perché abbiamo giocato alcune partite magari contro determinate formazioni che sulla carta erano palesemente inferiori a noi e abbiamo sempre usato quell'atteggiamento un po' così quindi cerchiamo di ripartire da questa idea di 4-2-3-1, cerchiamo di capire se verrà riutilizzato oppure no al fine della stagione, cerchiamo di capire se poi sul mercato si potrà fare qualcosa oppure no intanto ve l'ho già spoilerata ma questo è il punto principale dell'analisi, non è mai, mai, una questione di moduli ok? i giocatori vanno in campo e devono avere l'atteggiamento giusto e l'allenatore deve preparare la partita giusta sulla fase di possesso, sulla fase di non possesso e sulla fase di transizione perché tante volte mi capita di leggere nei commenti ma a me sinceramente la fase difensiva non importa, a me importa attaccare sì però ragazzi non stiamo giocando FIFA, stiamo analizzando partite di calcio stiamo parlando di calcio, la fase difensiva al pari con l'offensiva è fondamentale che non significa sempre difendere ma puoi difenderti anche attaccando come è accaduto l'altra sera alla Juventus, infatti il 4-2-3-1 nasceva da un'idea quindi i tre giocatori offensivi, Morata a sinistra, Quadrado a destra e Vlaovic di punta sui tre centrali dell'Inter e Di Bala uomo su Brozovic comunque vi ho portato anche qui su YouTube un breve video in cui vi dimostravo già prima della partita che quella sarebbe stata l'idea di Massimiliano Allegri ed effettivamente ha funzionato, quindi questo è un atteggiamento, una scelta di Allegri per andare a fare male all'Inter su quelli che erano i suoi punti forti e cioè la conduzione dal basso, l'uscita bassa e non buttare mai la palla alta uscire sempre palla a terra e allora io vengo a pressarti alto con quattro giocatori sui tuoi quattro giocatori che solitamente da dietro escono bene quindi attenzione, non è che da qui in avanti Massimiliano Allegri andrà a insistere sul 4-2-3-1 ma potrebbe essere una scelta coraggiosa e volontaria di Massimiliano Allegri per andare avanti in questa stagione che fino adesso non è una gran stagione per la Juve intendiamo, ce lo sappiamo, non c'è bisogno di ricordarlo, non devo dirvelo io cerchiamo di arrivare alla fine di questa stagione, poi tireremo le somme in maniera definitiva, ad ogni modo io dopo una sconfitta conosco un solo modo uno solo per rimetterci in carreggiata, vincere e quindi già col Cagliari mi aspetto una partita di questo tipo qua una formazione così, ancora una volta un 4-2-3-1 quindi bisognerà capire un po' chi giocherà a centro campo perché Locatelli ragazzi purtroppo è out una quarantina di giorni non dico stagione finita perché non è vero ma quasi, purtroppo Locatelli da qui alla fine dell'anno lo avremo veramente poco così come forse non avremo nemmeno McKennie sicuramente non avremo Chiesa, sicuramente non avremo Caio quindi siamo stati anche un po' sfortunati sotto questo punto di vista e quindi mi immagino che se dovessimo dare continuità ancora una volta appunto a questo modulo avremo Zaccaria e Rabiot davanti alla difesa ed eventualmente Luca Pellegrini al posto di Alexandro perché qua faccio una parentesi, apro una parentesi che è qualcosa che ho detto anche l'anno scorso quando c'era Andrea Pirlo in panchina da qui a fine stagione non voglio più vedere Ramsey non voglio più vedere Alexandro e quella roba lì quella gente lì perché ha palesemente terminato terminato il suo ciclo con la Juventus poi Alexandro l'anno scorso era quasi obbligatorio farlo giocare perché non c'erano riserve come terzionistro a centro campo invece sì c'era per dire Nicolo Fagioli che non ha mai effettivamente fatto dei minuti nemmeno con Andrea Pirlo lo scorso anno e quindi purtroppo abbiamo continuato a vedere anche Ramsey quest'anno lo dico con Alexandro perché abbiamo Luca Pellegrini che qualche minuto se lo merita alla grande l'altra sera era squalificato quindi non si poteva fare altrimenti però assolutamente io vorrei utilizzare questo metodo di giudizio e qualche minuto in più lo vorrei vedere anche da parte di Soleil, di Miretti eventualmente di Ake quando tornerà dall'infortunio di De Winter se starà bene perché è giusto iniziare a buttare dentro sul finale di stagione questi ragazzi farli giocare qualche minuto con i grandi con la prima squadra, con la Juventus, con la Serie A per adattarli, per fargli capire perché non sono sicuramente pronti però se neanche in questo momento in cui il tuo limite è cercare di difendere il quarto posto e hai la facoltà di farlo con o senza i ragazzi allora diamogli la questa possibilità oggi lo puoi fare, questo 4-2-3-1 anche ed eventualmente contro avversari diversi che non hanno lo stesso tipo di impostazione dell'Inter perché hai Di Bala e quindi ci puoi giocare in quella posizione anzi Di Bala va a nosse in quella posizione perché è veramente il luogo migliore del campo per Paolo Di Bala ma dall'anno prossimo che Paolo Di Bala non ce l'avrai più cosa succede? perché allora mi viene da dire vai sul mercato e cerchi un fantasista come Di Bala però la domanda poi sorge spontanea allora perché non rinnovare Di Bala? o hai in mente un fantasista incredibile, giovane che non costa nemmeno chissà che cosa l'hai già bloccato e quello è oppure devi cercare di adattarti e cercare di capire dove andare a investire su altri ruoli perché la qualità a centrocampo l'altra sera ce la metteva tutta Paolo Di Bala a un certo punto quando entra Zaccaria al posto di Locatelli abbassi ovviamente la qualità del palleggio della Juventus, aumenti la fisicità aumenti gli strappi infatti Zaccaria per poco non fa gol proprio in quel modo lì Zaccaria lo possiamo vedere come un vero e proprio nuovo acquisto da parte della Juventus visto che quando poi era arrivato aveva purtroppo avuto anche lui qualche problemino fisico non era mai stato a disposizione se non all'inizio quando fa l'esordio con gol quindi abbiamo capito che comunque l'ha detto anche Allegri l'altra sera è un centrocampista che non sembra ma un'occasione da gol a partita te la va a creare quasi sempre mi ricordo anche un'altra partita di Zaccaria praticamente gol azione sviluppo fotocopia del suo gol al Verona dove poi purtroppo non fa gol però è vero Zaccaria presente in area di rigore non si vedeva da tempo un centrocampista che comunque andava a proiettarsi in questo modo qua e ora con l'infortunio di Locatelli rimangono sempre solo tre centrocampisti all'interno della Rosa Juventus Rabiot Zaccaria e Artur e allora vi dico 4-2-3-1 potrebbe essere il modo per andare avanti per un'altra motivazione perché temo che tanto tre centrocampisti siano pochi pochini per andare avanti così fino a fine stagione che è vero che sono sette di Serie A una di Coppa Italia ed eventualmente la finale però bisogna giocarle e bisogna rimanere lì quindi ci sta che Allegri decida di optare per un centrocampista in meno visto che ne abbiamo tre come ne avevamo tre anche nelle altre occasioni ma dove ci mancavano altri giocatori e soprattutto perché questo tipo di intensità come quella della partita dell'altra sera non sono sicuro che Artur la possa garantire Artur è un giocatore molto di ragionamento molto di palleggio ma sicuramente non si esalta all'interno della lotta sicuramente non si esalta all'interno di una partita così intensa come era stata Juve Inter quindi potrebbe essere anche una motivazione per andare su Rabiot e Zaccaria che vanno a formare una vera e propria diga a centrocampo di centimetri e di muscoli e potrebbe dare qualcosa in più alla Juventus per sbilanciarsi anche lì davanti perché è vero che Artur è migliorato sulla gestione del non possesso palla ma sicuramente non potrà mai dare la fisicità che danno altri giocatori proprio per struttura per caratteristiche fisiche e quindi vi chiedo 4-2-3-1 contro 4-3-3 perché si sta andando in quella direzione si sta cercando di capire come la Juventus arriverà al prossimo anno quale sarà la voglia della Juventus del prossimo anno quale sarà il modulo del prossimo anno e sembra che sarà 4-3-3 si sta insistendo ancora Zagnolo sembra un nome caldo caldissimo molto caldo però vi dico lo sapete se sarà ancora Massimiliano Allegri nel territorio della Juventus io penso proprio di sì non dobbiamo aspettarci un modulo di riferimento e insisto dicendo che 4-2-3-1 e 4-3-3 sono sì differenti ma nemmeno troppo perché se ci pensate il 4-3-3 ha il vertice basso ha un regista davanti alla difesa più due mezze ali il 4-2-3-1 ha due centrocampisti centrali che si mettono davanti alla difesa a formare la diga più un fantasista che semplicemente è il vertice del triangolo ribaltato quindi quella fantasia che ci mette dietro le punti dietro la punta sulla tre quarti di bala è eventualmente quell'ordine quella qualità nel palleggio che ci potrebbe mettere un regista centrocampo davanti alla difesa e allora qui sorge la spontanea domanda se va via di bala la qualità da qualche parte la devi mettere la metti solo a tre quarti e quindi metti un altro giocatore come di bala numero 10 oppure vai a comprare un regista in grado di palleggiare di dare ordine alla manovra e eventualmente anche di andare in verticale oppure fai come era successo proprio a Cardiff 4-2-3-1 e ci metti un giocatore davanti alla difesa come pianici all'epoca che oggi potrebbe benissimo essere Locatelli che abbina qualità nel palleggio verticalità perché Locatelli è un giocatore che va molto verticale anche l'altra sera Allegri te l'ha detto stasera siamo andati meglio perché siamo andati molto verticale e avevamo i giocatori per andare verticale e avevamo la voglia il pressing per andare in verticale la fase di non possesso aggressiva per fare questa cosa qua difendere in avanti alzare il baricentro sono state cose che hanno permesso alla Juventus di respirare tutte queste cose insieme non è mai solo una perché quando mi si viene a dire le squadre giocano bene quando giocano alte punto non è così intendiamoci non è che se giochi alto giochi bene se giochi alto rischi anche di prenderti l'infilata perché non hai gestito bene la fase di non possesso non hai marcature preventive non sai quando scappare non sai quando anticipare quindi attenzione che è un insieme delle cose non è mai una sola non fidatevi della visione del calcio così semplicistica così banale del alzati alzati e vedrai che no non è vero e poi banalmente anche giocando con un baricentro molto alto l'altra sera se poi la palla non la butti dentro non la butti dentro e perdi la partita e ti fai il sangue amaro e sei qui che ragioni sulla partita col Cagliari piuttosto che verso una classifica che poteva mettersi bene con anche il pareggio del Milan ieri sera e sei qui a dire va bene cerchiamo di concludere la stagione in questo modo poi vediamo vincendo l'altra sera in casa con l'Inter invece saresti qui a fare tutt'altro tipo di ragionamento perché non è il numero del baricentro che ti deve interessare alla fine della partita ti deve interessare come finisce la partita quanti gol ha fatto una quanti gol ha fatto l'altra se sei stato bravo ad attaccare se sei stato bravo a difendere se sei stato bravo a ripartire a scappare all'indietro con le fasi di transizione queste sono le cose che servono e comunque al di là di questo decidere decidere se andare sul 4-3-3 o 4-2-3-1 diventa importante proprio per la scelta degli uomini l'anno prossimo è ovvio che andrei a prendere degli esterni perché se no non ci puoi fare niente è ovvio che per dire oggi Morata lo puoi adattare in assenza di altro però Bernardeschi è in scadenza e probabilmente non verrà rinnovato Di Bala lo sappiamo non verrà rinnovato Quadrado verrà rinnovato ma inizia a avere una certa età Chiesa torna da un crociato non so non ho idea se Zagnolo o Raspadori saranno giocatori effettivamente da Juve se arriveranno effettivamente da Juve oggi Zagnolo sembra vicino sembra interessata la Juventus andare su quel profilo lì e ci sta decidere di fare dei profili di quel tipo lì giocatori che sull'esterno si trovano a loro agio perché se vuoi andare sul 4-3-3 se vuoi andare sul 4-2-3-1 ad oggi davanti hai pochi giocatori e devi investire più devi capire a centrocampo dove servirà aumentare il livello nonostante Zaccaria che ancora non ci ha fatto vedere tutto il potenziale e capire ti serve un regista ti serve una mezzala ti serve un giocatore in grado di sostenere un centrocampo a due verrà confermato Rabiot verrà confermato Arthur perché se decidi di che ne so 4-2-3-1 allora mi esce anche Arthur che probabilmente farebbe un po' più di fatica lì e mi vai a prendere dei giocatori che sulla tre quarti possono dare quella fantasia in più attenzione che dietro la punta potrebbe giocarci pure McKennie che Allegri è sempre detto è un centrocampista sì ma fino a un certo punto quindi attenzione che c'è anche quell'opzione lì bisogna capire bisogna me io lo ribadisco nonostante la stagione non di livello non bella dove non sono soddisfatto ci sono diversi punti di partenza di ripartenza per l'anno prossimo cerchiamo di consolidare questo quarto posto cerchiamo di vincere almeno un trofeo la Coppa Italia l'ultimo che c'è rimasto e poi a bocceferme facciamo due conti critichiamo a chi c'è da criticare andiamo a cercare di capire come ripartire ma finiamo questa stagione io davvero non dico che non ne posso più perché non è vero tutte le volte che gioco io sono sempre molto contento però è l'ennesima stagione di Bocconi Amari e sinceramente di questo non ne posso più fatemi sapere un po' anche la vostra posizione la vostra idea ci sono stati tanti spunti di riflessione ho cercato di tirar fuori tanti argomenti però pensavo che potessero essere giusti e soprattutto interessanti a questo punto grazie a tutti